Buon pomeriggio, siamo al secondo appuntamento dei dialoghi di Bidobà, chiamiamola così, così ci affezioniamo, Biblioteca delle donne di Bari. Grazie a veramente l'entusiasmo straordinario, nonché la cultura eccezionale di Lucia Dellaia, stiamo sperimentando dei dialoghi intorno alla scrittura, intorno alla letteratura, intorno alle donne che scrivono e diciamo è l'occasione che la Biblioteca delle donne di Bari, come sapete è una giovane, giovanissima, piccola biblioteca e che ahimè nella sua breve vita finora ha avuto soltanto un'esistenza virtuale perché purtroppo è nata in piena pandemia, luglio scorso, però non vuole smettere di provarci ed è quello che cercheremo di fare anche stasera in nome di Fabrizia Ramondino, quindi anche spero facendo scoprire questa scrittrice a tante affezionate e affezionati e ascoltatori. Io prima di dare la parola alle illustrissime ospiti volevo dirvi un po' come io immagino che debbano andare questi giochi, ma li chiamo giochi perché mi piacerebbe che ci fosse una condivisione, che ci fosse davvero una, come dire, occasione di dialogare, e li abbiamo chiamati dialoghi esattamente per questo, visto che siamo a casa, questo è il modo di stare assieme e quindi facciamone tesoro. E allora ho trovato questo libro di un filosofo molto importante che, vabbè, io mi onoro di avere per caro amico e quindi insomma è sempre un po' sulla punta della lingua, che è Jean-Luc Nancy. E questo libro, un piccolissimo libro che Nancy è dedicato al libro e alla libreria e quindi volevo leggere soltanto un piccolo passo per dare l'avvio al dialogo di stasera. Il libro non è soltanto, o meglio non è affatto, un veicolo, un supporto di comunicazione, non è un medium, è immediatamente di per sé, prima di tutto, comunicazione e commercio di sé con sé stesso. Chi lo legge davvero entra in questo commercio e non fa nient'altro. Proprio in questo consiste la sua differenza rispetto al libello o al trattato. Questi ultimi trasmettono un messaggio, mentre il libro si comunica da sé, in persona, se è lecito esprimersi così. Il libro dispone il proprio fine in sé e si comporta come l'involucro di un'interiorità. Sono implicate in esso un'unità e un'unicità che non si tratta di portare alla luce più di quanto ci si ponga il problema di mostrare l'anima di una persona, ma la cui implicazione è tanto più certa ed esigente dal momento che la spiegazione è esclusa o infinita. L'aperto barra chiuso del libro si rivela come la topologia di un dentro, continuamente rovesciato in un fuori. Ogni libro è il nastro di Moebius in sé stesso dunque infinito e finito, infinitamente finito da tutte le parti, poiché apre ogni pagina un nuovo margine e ogni margine divene più largo, più capace di senso e di segreto. Insomma mi piaceva iniziare questo incontro di oggi pomeriggio proprio dedicandolo ai libri ancora non letti ma che leggeremo, continueremo a leggere di Fabrizia Ramondino che stasera sarà al centro del dialogo tra Lucia Dellaia che ha inaugurato questi dialoghi, la nostra ospite Stefania Lucamante, una docente universitaria che studia questi temi da tanti anni ma in particolare una conoscitrice e un'esperta di Fabrizia Ramondino e Lea Durante che è un'amica diciamo storica della Biblioteca delle Donne che anche se ha una vita breve possiamo dire che è già un'amica storica di Lea Durante perché è amica nostra diciamo fondamentalmente Lea Durante. Va bene, allora grazie mille naturalmente a Massimo Guastella che cura l'emissione di questo nostro incontro e buon pomeriggio a tutti noi e a voi ascoltatori e ascoltatrici con Fabrizia Ramondino e la sua scrittura. Grazie. Allora buonasera a tutti, un caro saluto alle amiche qui presenti e a quelle che so che ci seguono di sicuro in questo momento che ci vedranno in seguito. Questo è il secondo incontro dei dialoghi della Biblioteca delle Donne di Bari come ricordava adesso Romana il cui entusiasmo e passione io trovo travolgenti e mi sono lasciata travolgere a tal punto da diciamo organizzare questi incontri all'insegna davvero dell'amicizia perché la nostra ospite oggi Stefania Lucamante in realtà era già prevista come ospite a Bari nel famoso convegno su Elsa Morante di cui si parlava anche l'altra volta con Lea Durante. Questo nome di Elsa Morante l'altra volta diceva giustamente Lea Durante nel nostro incontro che deve essere quasi un modo anche per portare la conoscenza di altre autrici. Infatti Fabrizia Ramondino era anche un'amica di Elsa Morante e Stefania Lucamante è anche una studiosa di Elsa Morante quindi tutto torna sostanzialmente e io stessa ho conosciuto Fabrizia Ramondino per il tramite di Elsa Morante. C'è un famoso film francese di Romer che dice riportando appunto un detto francese gli amici dei miei amici sono miei amici quindi siamo in buone mani fidiamoci di Elsa Morante che era appunto un'amica di Fabrizia Ramondino e volevo dire. Lucia c'è anche Giuliana Zagra che ci sta salutando. E infatti Giuliana Zagra è stata l'ospite della precedente del precedente incontro e mi aveva detto che aveva molto piacere ad ascoltare vedere l'amica Stefania e quindi appunto è tutta una grande famiglia ma noi vogliamo che questa idea di amicizia si estenda a chiunque perché anche lo spirito di questa biblioteca è quello appunto di una collaborazione in defesa tra persone che promuovono la lettura e persone anche che materialmente la rendono possibile anche attraverso il lavoro della catalogazione della dell'inventariazione quindi è un lavoro di amicizie di solidarietà fra donne e soprattutto questi libri che prima si raccolgono devono poi anche essere in qualche modo veicolati e quindi Stefania Lucamante per noi stasera è la persona ideale per farlo lei ci racconterà anche della diciamo della sua conoscenza diretta dell'autrice Stefania Lucamante insegna all'università di Cagliari e per tanti anni ha insegnato negli Stati Uniti infatti la sua produzione di scrittura saggistica è appunto bilingue è espertissima di scritture femminili appunto abbiamo già detto una studiosa anche di Elsa Morante oltre che di Fabrizia Ramondino di questioni ebraiche insomma è una persona che si è occupata di tantissimi problemi legati alla scrittura femminile ma non solo io voglio lasciare la parola a Lea Durante per la sua diciamo per la sua per il suo saluto iniziale però prima di farlo voglio soltanto leggere un piccolo passo di Fabrizia Ramondino che me l'ha fatta immediatamente amare all'insegno appunto di questa di questa amicizia di cui parlavamo prima il passo è tratto dall'isola riflessa lei sta parlando in questo passo di delle piante che resistono all'azione del mare alla salsevine alla vicinanza rispetto al mare e sta elogiando perché era anche molto esperta appunto di piante sta elogiando le piante che resistono a questo a questo ambiente e fra queste piante dice altrimenti noti dovunque le piante che per millenni si sono autoselezionate per resistere alla salsedine alla mancanza di acqua alla spietatezza del sole e del vento il finocchio selvatico dalle foglie carnose amare l'assenso odoroso dalle folte fogliutte color turchese l'elicriso dai fiori gialli che nascono già setti il cisto il cui fiore ha petali bianchi e pistilli d'oro ostinato a essere un vero fiore dal fresco petalo di seta lucente urgineo sensuale tentato quasi il volto di simon ve il quattordicenne quando la consapevolezza della cruda aridità del mondo non ne aveva ancora rinsecchito il corpo reso vigile tenete lo sguardo la saspra e cui rosse bacche autunnali sono velenose per tutti allora questa è un omaggio diciamo anche a romana recchia luciana e alla nostra comune passione per simon ve il quindi questa immagine ecco di un fiore che resiste alla salsedine come appunto nelle foto di simon ve il quattordicenne credo possa essere una delle immagini con cui poter cominciare questo incontro lascio la parola a Stefania Lucamante per aver accettato l'invito grazie Lucia io dirò soltanto due parole anch'io di benvenuto a Stefania Lucamante che appunto ha accettato il nostro invito e vorrei diciamo fare una domanda al pubblico che ci sta seguendo una domanda che mi preme molto cioè chi conosce Fabrizia Ramondino? questa è una domanda che mi viene insomma in modo molto spontaneo noi abbiamo cominciato questo ciclo di incontri con Elsa Morante e abbiamo detto che Elsa Morante è una scrittrice è la scrittrice del Novecento esiste un Novecento femminile italiano perché esiste Elsa Morante nella coscienza comune nell'immaginario comune e il nome di Fabrizia Ramondino ci pone un problema ci pone in modo forse più alto che rispetto ad altre scrittrici la questione della difficoltà di rappresentare un certo livello di scrittura femminile cioè una scrittura femminile altissima scusate io ho i gatti che mi gironzolano intorno come già dicevamo e purtroppo quando mi vedono al computer o al cellulare per loro è la festa non so perché quindi questa domanda io la pongo perché la mancata conoscenza diciamo su un vasto pubblico di Fabrizia Ramondino è a mio avviso la cartina di Tornasole della necessità ineludibile di una revisione totale del canone novecentesco nel caso di Fabrizia Ramondino anche duemillesco ma voglio dire novecentesco nel senso più ampio della parola cioè del canone contemporaneo credo che intorno a questo nome si giochi proprio tutta la partita sono tante le scrittrici che mancano dai manuali di storia letteraria o rispetto alle quali c'è una conoscenza di vasto pubblico scarsa il nome di Fabrizia Ramondino però è proprio un vulnus anche perché è difficile leggerla nel senso che i libri sono per lo più fuori catalogo i suoi libri è difficilissimo trovarli insomma non sono diffusi non sono conosciuti e quindi interrogarci anche stasera sulle ragioni di questa mancata conoscenza su vasta scala di questa scrittrice credo che sia uno degli obiettivi che noi come Biblioteca delle Donne di Bari ci dobbiamo porre proprio perché ci poniamo il problema della diffusione della leggibilità delle autrici e dunque su questo spero di poter interloquire nel corso del pomeriggio con voi lasciando questa domanda al nostro pubblico appunto cioè chi conosce Fabrizia Ramondino? grazie Stefania poi possiamo ascoltarti riflettendo su quello che diceva Lea innanzitutto voglio ringraziare Lucia per il gentilissimo invito le mie amiche le mie sodali baresi sono particolarmente contenta di parlare a Bari anche se ci sono solo virtualmente stasera perché come sapete o forse non sapete i miei genitori erano di Bari e quindi ultimamente mi sono appassionata ad esempio a una fiction televisiva Lolita Lobosco non tanto per la trama abbastanza esigua quello che volete voi ma perché c'erano queste immagini del lungomare del bar Riviera il Petruzzelli insomma cose bellissime la bellezza delle Puglie incanta e riempie lo schermo sicuramente Bari è anche una città che in questo periodo fortunatamente annovera degli scrittori veramente grandi che stanno parlando di lei e parlo nello specifico di Nicola Laggioia Antonella Lattanzi Mario Desiati lo scomparso Alessandro Leogrande per cui c'è questo interesse quasi bizzarro quasi strano per la realtà pugliese che non fa di solito parte diciamo del panorama letterario italiano non a caso uno dei personaggi di Nicola Laggioia del romanzo La Ferocia edito per Reinaudi nel 2014 e vincitore del premio strega 2015 dice Bari non produce artisti adesso sto parafrasando così a memoria Bari è una città di professionisti di imprenditori di magistrati eccetera e mi sembra che tutto sommato non sia poi così lontano dalla realtà per come conosco io la realtà pugliese volevo dire che mia madre era di Trigiano chiedo scusa perché non vorrei offendere i trigenesi in ascolto in questo momento di padre barese però nata e cresciuta a Trigiano quindi mi sento vicinissima a Bari in questo momento anche se vi parlo da Cagliari e sono veramente molto contenta di poter parlare di Fabrizia Ramondino anzi veniamo alla grandissima Fabrizia ecco con un piccolo video con quattro sue poesie e adesso non so se la regia è pronta per vediamo sì benissimo grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Allora c'è un problema. Grazie a tutti. Non basterebbe questo dialogo stasera. Posso dire che la fama di Fabrizia Ramondino non è qualcosa di, come dire, nonostante la sua enorme bravura, la sua enorme arte, non è qualcosa che possiamo dare per scontato, ma stiamo attenti. Non voglio fare la ragioniera della letteratura, ma se pensiamo che il primo grosso romanzo di Elsa Morante fu pubblicato nel 1948 e sino al 1991 non era mai stata inserita nessuna storia della letteratura italiana. E poi nel 1991 Giulio Ferroni la inserisce in questa Elsa Morante e le scrittrici, una specie di ghetto per gli appartenenti al genere femminile. Capiamo bene che dal 48 al 91 di tempo ne è passato. Per cui io confido che essendo al Tenopis, cioè il primo romanzo di Fabrizia, stato pubblicato nel 1981, insomma più o meno ci siamo, ecco forse adesso potremmo. Ci vuole molto tempo, ma non voglio polemizzare. Come ho conosciuto Fabrizia? L'ho conosciuta attraverso Elsa Morante. Io sono una morantiana doc e saluto la carissima amica Giuliana Zagra, ex direttrice del fondo Elsa Morante alla Biblioteca Nazionale di Roma, che mi ha sopportata durante varie mattine e pomeriggi di ricerca perché io sono quello che tutti gli attributi di una bibliotecaria a me non appartengono. E quindi lei con santa pazienza mi dava questi quaderni da leggere, da fare. Secondo me era anche terrorizzata che io le rominassi qualcosa del fondo morantiano, però ha avuto fiducia in me, devo dire e le voglio tantissimo bene. Giuliana ha un carissimo abbraccio. Quindi io ho conosciuto Fabrizia grazie ad Elsa Morante perché considero, e ho scritto appunto di questo, considero Fabrizia come una delle epigone, nel senso che per me Morante ha fatto veramente scuola, ma non soltanto nel senso dei giovani che lei così chiamava attorno a sé, come la grandissima poetessa Patrizia Cavalli, come Samonà e altri scrittori. No, lei ha veramente tracciato un itinerario, un percorso di scrittura, di scrittura con certe tematiche specifiche come gli ambienti familiari soffocanti, la ciclotimia, l'affezione e la pervasività del ricordo, in un certo modo il romanzo di famiglia, l'apprendistato di vita. Fabrizia sicuramente si è molto ispirata alla scrittura di Elsa Morante, come d'altronde Maria Teresa di Lascia nel romanzo Passaggi in ombra del 1994 che vinse lo Stato, ma nel 1995, per non parlare di Elena Ferrante. Ma io di questo debito non mai dichiarato, come dire, non dichiarato, verso Elsa Morante sarebbe impossibile non dichiararlo dato che Elena Ferrante fa decisamente rima con Elsa Morante. Insomma, però io trovo che il cortocircuito evidente fra tante tematiche appartenenti alla scrittura di Ramondino e poi comparse nella tetralogia napoletana di Elena Ferrante siano degne di una rilettura più attenta perché vedo che fra le due Morantiane mi sembra che sia avvenuta una sorta di rilettura di tante tematiche appartenute e contenute nei romanzi di Fabrizia Ramondino e presenti in maniera, se vogliamo, abbastanza edulcorata nei quattro romanzi napoletani. C'è chi non la vede così, però io appunto, siccome seguo da circa 30 anni Elsa Morante, Elena Ferrante dei primi tre romanzi, L'amore molesto, I giorni dell'abbandono, La figlia oscura, poi la sua saga. Saga scritta nonostante nel 1995 avesse detto a Goffredo Fofi in un'intervista sa, io amo le scrittura, quando Fofi le disse dopo che le aveva vinto il premio Procida Elsa Morante si ispira a Morante, sì, ma sa, io amo la scrittura breve, non riesco a scrivere saghe e poi appunto le ultime parole famose, 1342 pagine dopo, diciamo che risulta un po' strana questa affermazione. Al di là di questa leggera polemica, quello che io ho provato per Fabrizia Ramondino è stato un amore al primo libro, nel senso che da quando ho iniziato a leggere Fabrizia Ramondino ho scritto nei miei libri di lei, ho continuato a pubblicare articoli sui suoi lavori, ad insegnare a fare conoscere i suoi testi, ma soprattutto a riflettere sul valore che Fabrizia affidava alla letteratura, cioè per lei la letteratura era veramente qualcosa di inestimabile, era se vogliamo una donna disincantata per tanti versi, cioè almeno conoscendola, una donna anche molto malinconica e un po' prona chiaramente alla depressione, lo sappiamo tutti, ha anche scritto di questo, se pensiamo alla madre bottiglia della pièce teatrale Terremoto con madre e figlia, capiamo molto bene che c'è, oltre alla citazione ovvia della serata di Colono di Elsa Morante del mondo salvato dai ragazzini del 68 c'è anche qualcosa di molto autobiografico, ma il suo impegno verso la letteratura era qualcosa che aveva a che vedere con quel nodo diciamo di cui parla Jacques Rancière, fra quella che è la comunità, l'impegno ideologico e politico e anche il valore estetico di un'opera. Ecco, per me Fabrizia Ramondino è l'interprete, una delle interpreti più importanti di quello che è stato un certo periodo in Italia, un certo periodo intendo chiaramente, parlo del 68, dei valori del 68, ma non tanto in termini di rivolta contro i padri, quanto l'interiorizzazione dei valori che ci facevano veramente sperare in un'epoca a venire diversa, il disprezzo della retorica, l'amore per la cultura, l'amore per l'indipendenza psicologica e culturale delle proprie scelte. Ecco, da questo punto di vista secondo me Fabrizia Ramondino rappresenta la classica nomade nel senso che dà la filosofa Rosi Bredotti al termine, cioè nel senso di una donna che viaggia, viaggia culturalmente, viaggia attraverso le scritture, viaggia attraverso le mille ispirazioni perché tra parentesi Fabrizia era una donna di enorme cultura e nei suoi testi troviamo citazioni da Michelle Lerì a George Bataille, a Rilke, spaziava, assolutamente spaziava e quindi trovo che sì, sicuramente è una morantiana, amava tantissimo Morante, ma ha espanso, dilatato se vogliamo, in una maniera completamente diversa rispetto a quello che hanno fatto altre scrittrici che pure si sono ispirate alla scrittura di Elsa Morante e ha portato la nave della scrittura romanzesca verso mondi molto diversi, molto più profondi, ha scandagliato proprio un oceano di ispirazioni. Ecco, in parte anche questo, questa espansione diciamo culturale, non solo tematica della scrittura di Fabrizia Ramondino, la rende sicuramente una scrittrice complessa, se vogliamo, non in tutti gli iscritti, però sicuramente la sua attenzione spasmodica per la parola, per la cura della parola, Fabrizia diceva, scriveva che la cosa che le piaceva di più leggere era il dizionario, quindi questo lessico così ricco, così attento, così preciso, nella sua chiarezza espositiva e un talento descrittivo enorme, si accompagnava però ad esempio all'uso molto originale delle note di commento che di solito non compaiono nella scrittura romanzesca, lei era rimasta molto colpita da un'autobiografia di Michel Léry in cui appunto compaiono queste note e in una delle note di Altenobis, nella prima che passo a leggervi, a pagina 74 dell'edizione del 1981 però paperback, descrive la situazione in cui si trovava a rientro dopo la fine della guerra, rientro da Palma di Mallorca dove il padre era stato console per diversi anni, è lì che Fabrizia trascorre la sua prima infanzia. Noi ci trovavamo sempre in situazioni di mezzo tra ricchezza e povertà, città e campagna, mare e villaggio, fortuna e sventura, anzi di passaggio dall'una zona all'altra, questo ci è servito a conoscere il mondo e secondo me questa nota esprime molto bene il senso della scrittura di Fabrizia Ramondino in toto, nel senso che essere nati in una famiglia fondamentalmente aristocratica quale era la famiglia Ramondino da due genitori un po' âgè, ecco perché siano sposati abbastanza tardi, essere passati dai fasti, del consolato di questa casa bellissima a Sombat, la Palma di Mallorca e poi tornare e vivere per un certo periodo anche in casa di parenti, di zii insomma e poi anche a Santa Maria di Massa Lubrense che nel romanzo Altenopis diventa Santa Maria del Mare, un nome così finzionale, ha insegnato a Ramondino a muoversi agevolmente nel mondo, nel mondo a lei conosciuto, le ha insegnato a viaggiare, a viaggiare molto presto, se pensiamo al periodo intercettato dalla prima parte di Taccuino tedesco, lei è una giovanissima ragazza che va a studiare in Germania e si avvicina alla cultura tedesca, la cultura tedesca che era completamente aliena chiaramente da tutto quello che era successo durante la seconda guerra mondiale, per Ramondino questa cultura voleva dire Goethe, voleva dire Heinen, sicuramente non aveva nulla a che vedere con una nuova Germania. Sì, direi, poi non so se avete delle domande su quello che ho appena detto. Mi sentite? Sì, ti pongo io, solo in posto. Allora Stefania, tu ci hai detto del tuo studio di Fabrizia Ramondino, però ci hai detto anche di averla incontrata, vorresti di averla conosciuta di persona. Che andrebbe di raccontarci questa tua conoscenza diretta, come è avvenuta, quando? Sì, ma sì. Era il dicembre del 1994 e sono andata a Dietri ad intervistarla, perché lei dopo il terremoto si è, ma insomma per un breve periodo è rimasta a Napoli in una casa così di fortuna eccetera e poi si è trasferita a Dietri dove il fratello che era architetto gli aveva progettato, riqualificato diciamo una casa nel centro storico, una casa bellissima nella sua semplicità. Io ero appena arrivata dagli Stati Uniti, ho noleggiato una macchina e sono arrivata senza addormentarmi a Dietri e l'ho intervistata e sono rimasta, devo dire, che è colpita dalla gentilezza, anche molto dalla melinconia di questa donna di una cultura incredibile, ma soprattutto dal modo, dal lacune che esibiva quasi senza volerlo, nell'analizzare qualunque donna di una cultura fondamentale, fondamentale, perché se io non avessi, cioè così ecco voglio dire il fattore fisico, adesso si usa molto il termine una cosa di pancia, le visce, non lo so com'è che si dice adesso, comunque sicuramente è stata una questione di pelle, nel senso che l'ho amata incontrandola a Dietri, dopodiché ho fatto praticamente, sai tipo i giuramenti dei cavalieri della tavola rotonda, io di te lavorerò, per te lavorerò sempre in eterno. Ecco, devo dire che ho anche dei colleghi bravissimi che si occupano di Fabrizia e qui ho alcuni testi, ad esempio la mia carissima amica Adalgisa Giorgio, che ha curato questo volume, non sto quindi a Napoli sicura di casa, in cui ci sono dei saggi bellissimi, Adalgisa è una mia amica che insegna a Bath, all'University of Bath in Gran Bretagna e si occupa spessissimo del lavoro di Fabrizia, ma c'è anche un numero speciale dell'Illuminista curato da Petrice Alfonsetti e Sirana Sgavicchia su Fabrizia Ramondino, con testi editi, inediti, saggi edite e poi questo bellissimo libro di Franco Sepe, Fabrizia Ramondino, Rimemorazione e il viaggio e sono secondo me tre testi molto importanti per farci strada attraverso appunto la scrittura di Fabrizia perché ciascuno di noi ha portato elementi diversi nell'analisi critica dei suoi lavori. Fabrizia era una scrittrice, come ho già detto, una nomadica perché si occupava di tantissime cose, di tantissimi temi e il romanzo per lei non aveva, secondo me, non aveva misteri perché passava dal Famiglia Romana, dal Sion Romana, al Bildungs Romana, era bravissima e conosceva molto bene tutte le tecniche, le strategie per variare la scrittura del romanzo. Sicuramente però ci sono dei punti fondamentali, cioè che la scrittura del sé, la scrittura del sé o come dice Donna Stenon, The Writing of Life, è sempre stata diciamo una dei punti chiave del lavoro di Ramondino. La scrittura del sé come possibilità di introspezione, come possibilità di giudizio, di autogiudizio è spesso anche molto severo perché se io ripenso ad alcuni passi di terremoto con madre e figlia devo dire che è veramente impietosa nei suoi stessi confronti ma anche in altri testi e poi anche la scrittura come terapia che molte persone tendono a sottovalutare ma per Fabrizia era fondamentale la scrittura. D'altronde lo stesso Bernardo Bertolucci diceva sempre che ogni film per lui era una terapia. Ecco quindi secondo me la scrittura del sé, quindi sì parliamo di autobiografia ma è tanto altro perché giornale tantino perché diario, perché diario di viaggi, ha sempre avuto un ruolo giocato, un ruolo fondamentale. La cosa più interessante mi ricordo che in questo nostro incontro lei mi disse che lei non riusciva mai a scrivere cose se non erano accadute almeno vent'anni prima, in questo estremamente morantiana perché entrambe seguivano il delta temporale di cui parla Sigmund Freud, cioè io non posso elaborare nulla se non ho un certo lasso di tempo in cui appunto effettuare questa elaborazione del mio passato. Ed è una cosa abbastanza evidente anche in Bestelle Dainhouse che è la terza parte di Altenopis in cui c'è questo straziante addio alla madre, Bestelle Dainhouse è il titolo di un'opera di Bach e lei era una grandissima amante di Bach e di musica classica in generale e ad esempio vediamo come nella terza parte di Altenopis Ramondino parli appunto di questo particolare momento, accaduto nella sua vita appunto più o meno all'incirca appunto vent'anni prima, ma soprattutto riesca a dire dei modelli letterari importantissimi come la cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda che è uno dei forse dei romanzi più belli sull'amore per la madre, almeno nella nostra letteratura e lo adatti diciamo alle circostanze relative alla propria soggettività. Quindi vediamo come l'identità della narratrice e soprattutto c'è anche un passaggio diciamo nella figura della della narratrice appunto fra le altre due parti e questa riesca a costruire una come dire una situazione di intimità in cui in cui il legame fra la figlia e la madre giunge quasi a sembrarci come un cordone ombelicale espresso attraverso delle immagini verbali e insomma quindi quando mi si dice perché non è tanto conosciuta, uno degli elementi è proprio il fatto che diciamo che una delle sue enormi qualità può diventare anche uno dei suoi difetti perché sicuramente non ha mai cercato di edulcorare la propria ricerca, di renderla leggibile, fruibile da tutti in tutto il mondo occidentale. Diciamo che di Ramondino Fever non ne vedremo mai ecco per motivazioni se vogliamo anche snobistiche perché al fondo c'era chiaramente un discorso di elite in quello che scriveva Fabrizia ma uno non può come dire disintegrare, cancellare se stesso per ottenere il successo tantomeno far parte di quello come le definisce un personaggio di Caterina va in città, un film molto divertente di Paolo Virzi delle conventicole della letteratura della capitale, lei ha sempre rifiutato di far parte di questa mentre era molto conosciuta dagli intellettuali napoletani come Mario Martone chiaramente con cui ha collaborato dire qualcosa mi hanno molto stimolato le osservazioni che ha fatto Stefania naturalmente su tutto, certamente la sua conoscenza personale di Fabrizia Ramondino ma in particolare questo suo discorso su Elena Ferrante mi ha sollecitata molto perché io non solo sono d'accordissimo con lei sulla forte influenza esercitata su Elena Ferrante ma io credo che si debba guardare proprio ad un intero ambiente di cultura napoletana tra la fine degli anni Ottanta e oggi per cercare un'influenza veramente molto importante di Fabrizia Ramondino intanto voglio spezzare una lancia nei confronti di Elena Ferrante perché sì, lei aveva detto nel 95 di non essere persona da poter scrivere una saga e poi l'ha fatta ma voglio ricordare che Italo Calvino quando scrisse Le città invisibili disse che certamente quello sarebbe stato il suo ultimo romanzo poi è uscito la notte d'inverno Un viaggiatore che è stato un successo planetario assolutamente incredibile quindi nella vita degli scrittori possono accadere questi momenti non credo che sia un problema io credo che se andiamo a costruire una coine napoletana anche se Fabrizia Ramondino non si considerava una scrittrice napoletana però se andiamo a costruire una coine napoletana fatta di alcuni nomi importanti vediamo come lei è in un certo senso un perno addirittura un perno tu facevi riferimento a Mario Martone e naturalmente a morte di un matematico napoletano ma io penso anche per esempio ad Ermanno Rea che parla anche di Renato Caccioppoli facendo riferimento a Ramondino nel suo mistero napoletano e anche alla rete costituita proprio dal nome di Anna Bonaiuto che è un'attrice martoniana e io direi anche ferrantiana entrambe le cose cioè un ambiente napoletano che costruisce negli anni Ottanta a partire dagli anni Ottanta una lettura metaforica della città di Napoli come metafora della ricostruzione che parte proprio dalla ricostruzione post bellica facendola confluire nella ricostruzione post terremoto e che ha come punto in comune quello di una stretta connessione tra impegno civile e scrittura credo che questo sia proprio un tema fondamentale e questa generazione di intellettuali era una generazione che aveva un compito molto difficile nella Napoli di allora per questo poi Ramondino è stata importante con la sua scrittura così alta e aulica perché il compito che avevano questi intellettuali era quello di liberare la letteratura connessa al nome di Napoli dall'epigonismo eduardiano cioè dall'idea che le cose sono in un certo modo ma si possono esaminare solo antropologicamente e non storicamente cioè non si possono esaminare per cambiare ma solo per descrivere e invece Ramondino parte da un presupposto completamente diverso che è quello che poi la porta ad utilizzare la scrittura per l'analisi sociologica per l'analisi interiore per la pratica politica e civile nella Napoli degli anni 70 che era veramente in condizioni disastrate allora su Elena Ferrante volevo dire questo per esempio io ho pensato molte volte che addirittura il personaggio della professoressa del liceo che raccoglie i suoi studenti nella sua casa di corso Vittorio Emanuele abbia qualche tratto di ispirazione proprio nella Fabrizia Ramondino degli anni 70 che era una professoressa un po' particolare un'insegnante un po' particolare che abitava nel cuore di Napoli e che in un quartiere del centro ma ormai degradato della città di Napoli e che appunto aveva questo rapporto così particolare così intenso con i ragazzi ai quali cercava di trasmettere tutta la sua cultura che era una cultura internazionale, cosmopolita ma fortemente radicata dal punto di vista dell'azione sul territorio nel quale viveva e insisteva quindi vedo molto questa influenza e vorrei dire anche che mi piace appunto nominare come tu già facevi non solo Martore ma anche Ermanno Rea perché noi tendiamo sempre a costruire le genealogie femminili e quello che manca secondo me nella costruzione del canone è proprio la capacità da parte nostra di ritrovare le influenze delle scrittrici sugli scrittori, sugli intellettuali uomini credo che invece nel caso di Fabrizia Ramondino questo sia chiarissimo insomma è importante sottolinearlo io, vabbè, tra le genealogie femminili certo, oltre a quella di Elsa Morante che ovviamente è la più importante e a quella di Natalia Ginzburg certamente vanno aggiunte anche Anna Maria Ortese ma io direi perfino Clara Sereni anche Clara Sereni vedo nella costruzione di un modello di scrittura al quale fare riferimento un po' carsicamente quindi ti ringrazio moltissimo di queste cose che hai detto e anche in particolare della testimonianza che ci hai portato del tuo incontro con Fabrizia Ramondino cosa dire Lea per quello che riguarda sai, molto spesso è anche un discorso legato alle tematiche quello dei canoni perché ci sono delle tematiche che legano delle scritture e che ne allontanano altre Fabrizia Ramondino sicuramente quando dico Morantiana ho specificato credo per quali motivi possiamo parlare di Ramondino come di una Morantiana ad hoc ma poi la preoccupazione per il sociale di Fabrizia Ramondino è qualcosa che la distanzia completamente da Elsa Morante è che la fa figlia del 68 la fa figlia del 68 sul serio nel senso che tutto il suo impegno con i disoccupati napoletani con l'asilo l'esperimento appunto dell'asilo la sua preoccupazione per ad esempio la riforma Basaglia e Passaggio a Trieste secondo me è uno fra i libri più interessanti sulla riforma Basaglia che però è legato al discorso delle donne a Trieste ad esempio quindi non siamo noi che imponiamo un discorso di genere alle scrittrici dipende dalla situazione se noi pensiamo a un giorno e mezzo che è il suo romanzo dell'88 su quello che era successo appunto a Napoli un decennio prima due decenni prima vediamo come si impianta cioè il discorso il cronotopo insomma il tempo e lo spazio del romanzo si impiantano su questa villa Villa Amore e all'interno di questa villa che è una sorta di enorme scenografia barocca con tanto di conchiglie eccetera eccetera Ramondino costruisce questa sorta di teatro perché ha un impianto teatrale in cui vari ceti sociali vengono presentati con al centro questa figura questa diade sororale di queste due amiche una delle quali ha una bambina e l'altra invece Costanza ed Erminia e l'altra invece è purtroppo soggetta a tutta una serie di brutti aborti soprattutto che ne so a fine estate dopo le vacanze questa diade non è altro che Fabrizia scissa fra la figura di Costanza e quella di Erminia perché noi sappiamo che Fabrizia ha avuto una figlia una ballerina molto famosa nel corpo di ballo di Pina Bausch la stessa Fabrizia era una ballerina e al centro di questo romanzo c'è proprio questa storia fra queste due amiche questa sorellanza sofferta una sorellanza fatta a tratti di invidia a tratti di grande ammirazione questo già del 1988 e poi ci sono tutti i discorsi legati al movimento al movimento studentesco di cui appunto Fabrizia ha fatto parte si è sempre molto interessata diciamo che ci sono tanti 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 argomenti che Fabrizia Ramondino ha conosciuto e ha vissuto le stesse che sono appunto presenti in un giorno e mezzo che è un romanzo molto diverso da Altenopis ed è altrettanto importante secondo me per capire l'impegno nel sociale di Fabrizia Ramondino l'impegno nel sociale e nel politico e c'è una bellissima recensione di Domenico Sternone un altro intellettuale napoletano vicino a Ramondino e ad altri in cui appunto parlava di un giorno e mezzo e dell'impegno di Fabrizia Ramondino ecco io al di là della mia polemica rispetto all'intervista rilasciata a Goffredo Fofi nel 95 vorrei anche dire a me sembra molto molto strano che Ferrante non abbia mai citato Ramondino in tutti i suoi omaggi in tutte le sue interviste risposte per interviste molto molto studiate perché come sapete Ferrante accetta le domande che gli vengono rivolte dalle varie può essere la Paris Review o Nicola La Gioia che le intervista non importa poi fornisce le sue risposte risposte studiate molto studiate molto attente però guarda caso ripeto il nome di una scrittrice che pure appunto nel cotente lettuale napoletano era conosciutissima e amica di tanti non compare mai io lo trovo molto strano non so voi quindi quando si parla appunto di canone femminile di canone in generale bisogna vedere anche chi si dà da fare per far entrare Ramondino nel canone e farla entrare anche nelle antologie nelle storie della letteratura questo è fondamentale perché se noi non abbiamo delle autrici nei programmi scolastici e addirittura dei corsi universitari con soltanto nomi femminili o comunque molti nomi femminili vengono guardati con sospetto è chiaro che abbiamo ancora tantissimo da fare solo quest'anno ad esempio nella dozzina dello strega abbiamo un numero di scrittrici maggiore rispetto a quelli a quelli degli scrittori ma anche lì non è che voglia dire molto perché è tutto un gioco politico dell'editoria quello che invece preme a me è sapere che io posso contare su un programma scolastico in cui vengano inserite anche le scrittrici ma non all'atere ma inserite proprio insieme con Calvino non Elsa Morante e le scrittrici riguardo agli altri nomi di riferimento sicuramente Anna Maria Ortese è fondamentale è fondamentale per uno sguardo più ravvicinato al contesto napoletano e al modo di raccontare le vicende diciamo napoletane però Anna Maria Ortese non sto parlando del Cardillo già 1992 io sto pensando ai primi scritti adesso c'è un saggio poderoso su Anna Maria Ortese però mi sfugge il titolo insomma e e quel tipo di reportage del mare non bagna Napoli eccetera può aver interessato Fabrizia ma eravamo già in un periodo diverso e l'incantamento del fiabesco della scrittura di Fabrizia come ad esempio l'isola riflessa appena citata da Lucia dell'Aia è qualcosa di diverso rispetto alla scrittura di Anna Maria Ortese cioè Ortese ci arriva appunto nel periodo più tardo della sua attività anche perché Ortese era anche giornalista eccetera quindi diciamo esiste un coacervo di di influenze pensiamo a Clotilde Margheri ad esempio una scrittrice napoletana poco conosciuta invece fondamentale da tanti punti di vista ma Fabrizia aveva questo suo come dire questo suo mondo questo suo bagaglio di esperienze di cultura che la portava ad essere veramente qualcosa di molto molto singolare questo saper capire Napoli e saper capire che Napoli è fatta di bassi e di palazzi come il Palazzo Pignatelli e questa convivenza che non è non è solo retorica non è solo stereotipo ma è effettivamente così e secondo me nella nella costruzione di Villamore in un giorno e mezzo Fabrizia Ramondino ha saputo veramente centrare centrare il discorso poi pensiamo alla Napoli non lo so di Giuseppe Montesano con i suoi romanzi anche lui scava tantissimo nella realtà napoletana di questa vita menzognera del 2003 fondamentale per capire ad esempio anche i rapporti di famiglia i rapporti fra questa sorta di non Disneyland ma Edenlandia che si vuol fare di Napoli questo turismo forzato imposto su una società che ha una vita che è temporalmente uguale se non precedente addirittura alla fondazione di Roma insomma l'Edenlandia fuori grotte andate lì se volete ma insomma quindi c'è tanto da dire anche sul discorso di Napoli un'ultima cosa rispetto appunto a Napoli è il fatto che per Fabrizia Napoli non fosse una madre ma una balia vi ricordate non lo so c'è un brano molto famoso rispetto alla posizione di Fabrizia Ramondino rispetto alla sua città che si le ha dato in qualche modo i Natali ma che lei non sente veramente come madre proprio perché la cultura prima ancora che tutte le lingue da lei conosciute imparate dalla più tenere età le avevano dato questo stato di apolide in cui lei tutto sommato si sentiva bene nel senso che era sempre fuori dai cardini di qualcosa e quando si è fuori dai cardini di qualcosa cioè si è nomadici intellettualmente e culturalmente si è anche più pronti a capire e ad analizzare tantissimi altri argomenti e quindi forse è una delle scrittrici meno provinciali se vogliamo della nostra produzione letteraria Stefania volevo ritornare un attimo su quanto dicevamo a proposito dell'impegno sociale fabrizia ramondino è senz'altro quello essenziale del 68 nel quale lei si è riconosciuta ma anche precedente cioè appunto quello dei primi anni 60 con l'associazione risveglio napoli e da questo punto di vista mi piace moltissimo quello che lei dice cioè nell'isola dei bambini appunto che è stato ripubblicato da poco dove si racconta di questa esperienza di assistenza all'infanzia in una Napoli martoriata dalla guerra insomma dopo gli anni della guerra e lei dice questo il paese dei bambini è in nessun luogo e dovunque in quegli anni lo trovavo sempre così l'isola dei bambini è oggi l'unica isola del golfo di Napoli rimasta allo stato selvaggio lei dice che appunto l'esperienza con i bambini prima del 68 le aveva fatto imparare tantissimo rispetto a quel tema dell'utopia cioè del del progetto di qualcosa che si deve realizzare nel futuro lei e lei ammette che ha aderito al 68 però nessun movimento nemmeno il 68 ha messo di nuovo al centro i bambini come è avvenuto in quella sua esperienza degli anni 60 anche qui riconosciamo anche a posteriori una sua lettura come dire morantiana anche questa del del 68 e quindi di un mondo salvato dai ragazzini il fatto di mettere al centro l'infanzia e volevo soltanto aggiungere a quello che dicevi il fatto che questo impegno sociale ha poi lasciato dei segni evidenti nella scrittura anche se questa scrittura è sempre stata come dicevi tu distante rispetto a quello che lei viveva di almeno vent'anni se parliamo appunto di una dimensione temporale ma adottando la sua terminologia per esempio anche il romanzo Altenopis è fatto di visioni cioè quindi di fantasmi di come questa esperienza concreta di vita l'impegno sociale o tutto il resto della vita privata sono stati in qualche modo poi distanziati in una visione cioè quindi nell'immaginazione e volevo rapidamente leggere un passo bellissimo secondo me di Altenopis nel quale la prospettiva il racconto di quando si è bambini e si ama guardare il mondo dai terrazzi dai lastrici diventa secondo me in parte la metafora anche della necessità che la scrittura poi ha di intervenire nella vita per raccontare se stessi dall'alto appunto con una distanza lei dice sull'aereo mondo dei lastrici potevamo trovare rifugio quando la compagnia degli adulti ci diventava troppo insostenibile e quando non era la nostra e quando non era la nostra una voglia di avventure di corse di giochi violenti ma di sogni di riflessioni di racconti e di discorsi i lastrici erano piatti o a cupola bianchissimi per respingere il sole e mantenere più fresche le stanze ci si sentiva più leggeri là sopra l'aria era come era refatta priva di odori e rumori ci affacciavamo intorno facendo il giro del terrazzo o camminando sull'orlo della cupola sospesi per tre giri sul vuoto il dolce paesaggio era sempre là fermo e uguale mentre nelle nostre case nella piazza e in noi il tempo e le circostanze incalzavano con lo stesso ritmo lento delle nuvole passavano ogni tanto folate di odori di glicini e di gelsomigli fiori d'arancio di pozzo nero improvvisamente scoperto ma anche seguendo il vento di pane appena uscito dal forno e dopo la pioggia di terra bagnata e con certi larghi venti africani arrivava l'odore del mare che ci faceva battere le mani il mare era la più grande delle nostre feste quindi mi piace questa immagine se sei d'accordo perché tu hai voluto il nostro incontro tra romanzo e autobiografia quindi la vita l'impegno sociale nella sua scrittura è sempre filtrato dalle visioni guardato dall'alto credi che sia possibile questa lettura sei d'accordo? Sì fondamentalmente sì sono d'accordo l'impegno è anche nel cercare di mantenere sempre fede alla propria serietà di scrittrici nel non dare mai agio a delle mode troppo repentine di lusingarti la propria onestà nei confronti di chi legge secondo me anche questo è un impegno non si può cioè il proprio passato non si può elidere semplicemente perché stai scrivendo un romanzo che non parla di impegno sociale non parla di impegno sociale sulla superficie però fondamentalmente nella costruzione del romanzo l'impegno dell'autore esiste sempre se c'è nel senso che il modo che ne so il punto di vista la costruzione del narratore è un narratore giudicante come direbbe Wayne Booth o non lo è è un narratore empatico Elsa Ips come nella storia di Elsa Morante insomma secondo me l'impegno non viene mai meno ripeto non soltanto nella scelta dei temi come nel caso ovvio di passaggio a Trieste ad esempio però anche se pensiamo non lo so ai racconti di Arcangelo sono racconti in cui l'impegno continua sono 15 storie ambientate a Napoli nel mezzogiorno insomma in generale in cui ci sono personaggi che sono ancora attivisti politici divisi tra l'impegno l'insofferenza nei confronti delle direttive del partito l'urgenza di affanni privati uomini e donne che continuano a interrogarsi sull'esistenza per cui vediamo che che il percorso di Fabrizia è un percorso estremamente organico estremamente coerente con l'impegno politico di Fabrizia che poi fosse chiaramente cioè influenzata anche non condizionata ma che la sua identità fosse anche aristocratica estremamente snob nelle sue scelte questo è inevitabile perché questo era Fabrizia questo era Fabrizia Ramondini Sì Stefania ci sono in sovraimpressione alcuni commenti da parte di chi ci sta ascoltando ci ringraziano noi intanto ringraziamo moltissimo tutti quelli che ci stanno seguendo e loro ci ringraziano per per averci per aver parlato di questa autrice ad alcuni non nota e quindi che avranno così occasione di conoscerla e uno proprio il tema di cui abbiamo adesso parlato insieme cioè appunto come si sposa l'impegno con la scrittura insomma come si sposa l'arte la letteratura e la vita Gabriella Pallibarone che saluto è una nostra carissima amica che ha seguito anche l'incontro su Elsa Morante e sono insomma anche per lei autrici di riferimento è una nostra sostenitrice diciamo in questo nostro incontro io volevo dire Stefania ringraziandoti tantissimo che questa occasione di avvicinarci di più a Fabrizia Ramondino è occasione di scoperte di conferme di amicizie io per esempio proprio stamattina ho scoperto che un'altra amica morantiana Flavia Cartoni è stata la traduttrice in spagnolo di Altenopis e io la conosco da tanti anni e non sapevo diciamo anche con lei di questa passione comune è successo anche con Lea Durante quando abbiamo pensato di organizzare un incontro su Fabrizia Ramondino né io né sapevamo insomma l'una dell'altra di avere questa passione in comune ed è successo qualche giorno fa anche con un altro caro amico Maurizio Molina che credo insomma ci stia anche ascoltando che mi ha detto appunto di aver essere andato a riprendere i suoi libri su Fabrizia Ramondino lessi tantissimi anni fa e di cui non avevamo mai parlato quindi come dire queste autrici sono per noi anche l'occasione di consolidare incontri amicizie e rafforzare anche amicizie già esistenti da tempo perché appunto come dicevamo prima c'è un terreno comune fra le letture quindi per noi sei stata diciamo stasera io ti ho ascoltata quasi appunto incantata perché il modo dolce leggiadro ecco con cui ci hai guidato nelle pagine di questa autrice è stato molto coinvolgente noi a tutti forse consigliamo di partire dal Tenopis se non altro perché è ancora edito insieme ad alcuni altri però purtroppo abbiamo detto non sono tutti editi non so Stefania se tu invece in questi ultimi minuti vuoi dare altri consigli di lettura al pubblico diciamo al Tenopis abbiamo già detto altrimenti dici tu ma io proporrei Arcangelo questa serie di racconti perché secondo me sono meno diciamo riescono ad essere meno complessi nel senso che appunto si tratta di racconti e non di un romanzo e quindi ci si può concentrare meglio sulla forma breve che è comunque una forma molto attenta molto raffinata ma poi sicuramente consiglio passaggio a Trieste che è un libro fenomenale da leggere in Pandan con la prima verità di Simona Vinci perché ci sono molte tematiche sugli spazi manicomiali in comune non tanto la prima verità di Simona Vinci si concentra molto sull'eros quest'isola in Grecia però c'è anche la parte finale in cui si parla molto dei manicomi in Italia e poi sicuramente un giorno e mezzo terremoto con madre e figlia ma anche in viaggio se lo trovate da quino tedesco purtroppo non so se ci sia se sia disponibile star di casa anche sono dei racconti molto belli e sicuramente guerra di infanzia di Spagna che è un romanzo autobiografico di grande interesse sì anche perché ci sono tantissimi grumi diciamo irrisolti rispetto all'identità che il padre voleva imporre sulla figlia e il rifiuto il rifiuto della figlia ma già da quando era piccola per cui possiamo capire a seguire diciamo il percorso che il padre le indicava in maniera abbastanza così vigorosa soprattutto è molto interessante il senso del ridicolo che questa questa narratrice in qualche modo impone alla figura paterna perché così come questa figura paterna le imponeva di diventare bibliotecaria di diventare la custode della storia lei pensava al padre che con il suo pigiamino andava al bagno di notte diceva ma come posso come posso porre in relazione quest'uomo che pretende di esercitare la propria autoritas nei miei confronti a questo mino magretto che va a fare la pipì col pigiamino e quindi è un ulteriore esempio di come Ramondino con enorme eleganza riesca a scardinare tantissimi tantissimi diktat anche societari del suo periodo e questo ben prima chiaramente degli anni del movimento studentesco del movimento delle donne e di questa voglia rivoluzionaria di abbattere appunto tutti gli schemi societari italiani Stefania c'è un altro commento di chi ci sta seguendo il caro amico Gandolfo Cascio carissimo nostro amico anche lui Morantiano che ci ringrazia appunto per questo per questa conversazione e definisce la nostra Fabrizia come appunto un'autrice splendente e Ombrosa insieme e anche lui appunto dice di essere d'accordo con la scelta di leggere appunto Arcangelo fatta da te e Giuliana Zagra sempre nei commenti che è qui con noi anche lei ci dice che giustamente il il trade union tra Ramondino e Ferrante sicuramente è Goffedo Pofi sicuro certo certo non so Lea sì se ci vuoi penso che abbiamo detto tantissimo Lucia il mio come un po' diciamo un po' al solito è un invito insomma da un lato a cercare di leggere Fabrizia Ramondino e poi vorrei anche prendere con te l'impegno che come Biblioteca delle donne di Bari visto che si tratta di un'autrice della quale è difficile reperire i libri forse noi stesse dobbiamo rendere possibile la sua lettura perché altrimenti è chiaro che lo sforzo di diffonderne la conoscenza resta monco e quindi credo che dovremmo darci da fare per offrire alle nostre lettrici o lettori questa autrice al più presto io voglio impegnarmi per questo certo io ho consigliato naturalmente l'acquisto alla biblioteca di alcuni testi quelli che sappiamo essere editi per tutto il resto senz'altro accolgo questo impegno Lea Stefania noi ti ringraziamo davvero moltissimo insomma siamo quasi in chiusura per questo dialogo perché comunque ci hai guidato anche se appunto nella tua città non sei tornata in presenza però sei tornata a guidare come dire le nostre vie in qualche modo anche se a distanza diciamo così però l'invito è quello a tornare nella tua città in presenza a visitare la biblioteca e insomma ad essere qui con noi materialmente ti ringraziamo tantissimo e ringraziamo moltissimo anche tutti quelli che hanno seguito e hanno commentato insomma mostrandoci il loro affetto e la loro partecipazione il prossimo incontro sarà il 14 di maggio e lo dedichiamo a Virginia Wolf sarà ospite Sarasullam e quindi anche oggi insomma c'è stato qualche riferimento e quindi continueremo in questo spazio ad affrontare la scrittura femminile l'impegno femminista nel caso appunto di Virginia Wolf e daremo dei consigli di lettura quindi ringraziamo davvero tutti quanti ecco per per l'affetto e vi diamo appuntamento alla alla prossima volta al prossimo incontro arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a Massimo per la perfetta regia grazie arrivederci arrivederci cara terra va bene tutto scorre ma chi regge gli argini del fiume non mi sono di aiuto filosofia teologia psichiatria ma forse solo tu stupida cara terra qui vorrei tornare perché da te sono nata chissà se io volessi vorresti anche tu restiamo nel dubbio da sposi separati in casa l'acqua allarga o restringe gli argini in mezzo si dice c'è il letto del fiume se vuoi torniamo a dormire insieme delega madre gentile da me male amata io adolescente in giardino appartata mentre ancora cercavo sotto l'ala l'ascella mi chiedevo perché così triste mentre a me la vita cantava sommessa e timida elegia mi negavi alle parole trapiantavi gerani anch'io oggi trapianto gerani come a dirti ho imparato a te l'essenziale ora so perché a me il tuo destino delegavi barocco napoletano al mercato vendono il pesce inarcato bisogna tenerlo piegato per qualche ora in un cassetto con ghiaccio sembra vivo e si dibatte ancora in lotta invito non è imbroglio anche l'occhio vuole la sua parte ora vi spiego la morte del pesce a tre fasi alla fine si interviene con arte autoritratto non sono rimambita sono sempre lesta e forte nel giocare alla morte il capriccio di bambina che vi insorte